Torna l'incubo delle stese per i residenti di Forcella e dei quartieri spagnoli. Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte contro alcuni edifici in due strade di Napoli. In Vico, colonne a Cariati, nel dedalo di Stradina a ridosso di Via Toledo, poco prima della mezzanotte, a essere preso di mira il portone di un palazzo dove abita un pregiudicato del clan dei Picozzi, sottoposto a sorveglianza speciale. Sull'accaduto indagano gli uomini della questura. Gli agenti hanno ritrovato otto bossoli calibro 9, tre i fori nel portone. Sono stati proprio i residenti, dopo aver sentito il rumore degli spari, ad avvertire la polizia. L'ipotesi investigativa è che ci possa essere un legame tra l'episodio della scorsa notte e quello avvenuto circa una settimana fa nel quartiere Montesanto quando fu ferito un affiliato del clan Mariano raggiunto da un proiettile allo stomaco e dalla gamba e poi trasportato e abbandonato davanti all'ospedale Pellegrini. Via Oronzo Costa, strada di Forcella, teatro invece dell'altra sparatoria avvenuta la scorsa notte in una zona controllata dai reduci del clan Sibillo sono stati gli undici i bossoli di una pistola automatica rinvenuti sull'asfalto. Grazie. 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 Grazie.